Parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot.chiocciolaocchiopavese.it che riparti con noi, che riparti con occhio pavese. Buongiorno a tutti, ci troviamo presso il Castello Visconteo di Bughere, siamo con l'assessore alla cultura Marina Zaretti, buongiorno. Buongiorno a voi. E siamo qua perché vogliamo raccontarvi ciò che accadrà nelle prossime settimane durante il mese di settembre in quel di Bughere, perché il programma di eventi, il programma culturale è decisamente ricco, vero assessore? Sì, abbiamo lavorato tanto, abbiamo prima di tutto lavorato dei progetti che sono stati finanziati, perché siamo stati bravi e i progetti hanno tenuto l'ok dalla Regione Lombardia e dalla Fondazione Cariplo. Questi progetti, quello approvato dalla Regione Lombardia, è un progetto no slot, che prevede oltre ad azioni di sensibilizzazione nelle scuole e di assistenza legale ai commercianti che vorranno smettere, di smettere le macchinette e a tante altre azioni importanti sulla città, anche delle iniziative di aggregazione. La prima è appunto il 14 settembre in Piazza Duomo, una grande iniziativa di socializzazione per dimostrare che si può giocare sano. Si parte dall'infanzia, quindi ci saranno tanti giochi per i bambini, giochi di una volta in legno, ci sarà la Croce Rossa a nostro supporto, grande nostro partner, con il trucca bimbi, altri giochi per i bambini, momenti anche di sana convivialità con i prodotti tipici del territorio e a seguire ho inserito la finale di Voghera Ghost Talent proprio perché per dare questo segnale i giovani possono lavorare per tirar fuori il loro talento e per dimostrare le loro qualità invece che magari perdere del tempo appunto perdendosi in malattie tipo la ludopatia. Si parte quindi dai giovani, poi il percorso proseguirà anche rivolgendoci ad altri target d'età. Quindi invito tutti il 14 settembre, dalle ore 16 per i bambini, dalle ore 20 chi vorrà cenare con la Croce Rossa e dalle ore 21 per la finale di Voghera Ghost Talent che si preannuncia con tante sorprese, tra cui ospite d'eccezione, Garrison, che mi dicono abbia molta empatia con i tanti fan giovanili. È il grande protagonista di Amici che è uno dei talent più amati dai ragazzi e poi questo è anche il mese in cui parte ieri a Castle Festival. Ecco sì, finalmente giunto ormai alla sua sesta o settima edizione sono veramente orgogliosa di aver elaborato un calendario di iniziative insieme a tutte le associazioni che hanno chiesto e che hanno aderito per questa nuova edizione di Ria Castle Festival che parte il 16 settembre con una cena medievale ma con una grande riavocazione storica teatralizzata che avrà al suo clou domenica tutta la giornata partendo e coinvolgendo anche altre vie del centro storico. Quindi una grande giornata domenica che proseguirà fino a tarda sera a seguire tantissimi eventi e al piano nobile appunto mostre importanti di cui la prima prenderà il via appunto sabato 9 settembre. Grazie di tutto questo dobbiamo dirlo sicuramente prima che hai elaborato il progetto quindi a tutto l'Ufficio Cultura che mi onoro di dirigere, di coordinare e poi alla Fondazione Caliplo e naturalmente anche ad ASM i nostri sponsor ufficiali. Invito tutti naturalmente prima il sabato 9 settembre alle ore 11 qui insieme a Spazio 53 tutti i curatori della mostra il 14 settembre con tutto quel clan di filibustieri tra virgolette simpaticissimi che organizzano con Mevo, Guerra, Ghost Talent, ospite Garrison e poi dal 16 settembre sera con la cena medievale ricca di sorprese, duelli, darmi, danze, nobile donne in fuga con armigeri che le inseguono, insomma una cosa a salto al castello eccetera. Lei partecipa? Assolutamente sì, vestita da dama, accoglierò in maniera come si deve naturalmente tutti gli ospiti. Vale il costo del biglietto questo? La cena medievale la gestisce e la organizza, è stata affidata a un'associazione un'associazione dedita all'organizzazione di questi eventi, molto capaci, molto bravi quindi la cena andrà prenotata naturalmente a pagamento presso di loro lascio libero, cioè non fate prenotazione all'ufficio cultura perché dovete rivolgervi direttamente a loro a seguire poi certo domenica è tutto ingresso libero così come la mostra anche se meriterebbe forse un contributo magari un'offerta dopo averla visitata. E quindi rinnoviamo l'invito a tutti i vogheresi e non solo direi Assolutamente, venite a Voghera perché è a Voghera a settembre ci saranno tante belle iniziative invitiamo prima di tutto tutti i vogheresi ad uscire a valorizzare quello che noi abbiamo e cercare di supportare quello che noi cerchiamo di fare per la nostra città. Assessore grazie mille Grazie mille a voi, buona giornata e buona visione Parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot-occhiopavese.it Riparti con noi, riparti con Occhio Pavese